Questi ordini del giorno, cominciando proprio dal 41, che è un ordine del giorno molto importante perché parla di un territorio e coinvolge dei cittadini già martoriati da una gestione dei rifiuti non proprio efficiente, perché è sicuramente un atto importante sul quale ci auguriamo convergerà il voto favorevole di questa maggioranza. Comunque, visto che ho un bel po' di tempo a mia disposizione, di questo ne sono molto felice che i colleghi dell'opposizione, non solo del Movimento 5 Stelle, hanno riposto in me una certa fiducia su questi temi e questo è molto importante. Colleghi, vi invito a fare silenzio. Mi scusi, consigliere Stefano. Colleghi, vi invito a fare silenzio. Grazie. Grazie Presidente per aver cercato di portare un po' di attenzione in aula. Dicevo, sono ben felice di sfruttare questo tempo per illustrare questi ordini del giorno e che l'opposizione abbia riposto in me una certa fiducia. Parlare di regolamento tari, di regolamento della tariffa rifiuti a Roma non è mai semplice, perché sappiamo tutti che i cittadini romani sono vessati dalle tasse più alte d'Italia o forse d'Europa a fronte di servizi, lasciatemelo dire, quantomeno di dubbia efficacia ed efficienza. E sicuramente tra questi c'è la tariffa rifiuti. Io quando parlo con le persone o quando pubblico qualcosa in rete inerente alla materia dei rifiuti o dama c'è subito una certa arrabbiatura, usiamo un eufemismo, da parte dei cittadini che dicono io pago diverse centinaia di euro l'anno di tariffa rifiuti, tra l'altro calcolati malissimo, perché sono calcolati sulla superficie dei metri quadri dell'abitazione e sul nucleo delle persone che vi abitano, ma ciò non toglie che io posso avere una casa di cento metri quadri e abitarci in quattro, ma essere molto attento e sensibile all'ambiente e magari ricorrere al compostaggio domestico o collettivo, oppure comprare prodotti alla spina così da riutilizzare i contenitori, non utilizzare mai piatti e posare di plastica e quant'altro, eppure questi comportamenti virtuosi non vengono valorizzati perché poi si paga una tariffa rifiuti che si basa solamente su criteri quantitativi e non qualitativi e quindi magari dei cittadini virtuosi non sono premiati. E questo è molto grave Presidente perché il principio fondamentale che dicevo prima era quello di ridurre i rifiuti, ce lo dice anche la normativa europea vecchia ormai di quasi dieci anni, l'obiettivo principale è ridurre i rifiuti e per farlo bisognerebbe dare degli incentivi economici ai cittadini, che poi dovrebbe essere la normalità perché se io non so, vado al supermercato e compro un chilo di arance, pago quel chilo di arance, non pago le arance in base a quante ne potrei consumare perché sono una famiglia media composta da tre persone, lo stesso dovrebbe avvenire per i rifiuti, mi produci dieci chili di rifiuti indifferenziati, mi paghi quegli indifferenziati, mi produci dieci chili di rifiuto differenziabile, plastica, alluminio, carta e quant'altro, non te li faccio pagare per conferirmeli a me ama perché io ama in teoria con quel rifiuto che non è un rifiuto ma una materia prima ci dovrei guadagnare, uso ovviamente la forma dubitativa perché ama non avendo impianti per la selezione del multimateriale o meglio avendone solo uno che non viaggia neanche completamente a regime ama non tratta questa frazione di differenziata e la conferisce a delle ditte pagando le quali poi ditte ci guadagnano più di una volta perché prima vengono pagate da ama e poi giustamente si rivendono quella materia selezionata e quindi anche per toccare un attimo degli argomenti di attualità siamo ben conscienti che ama debbi avere degli impianti di trattamento ma ne dovrebbe avere tanti piccoli e diffusi sul territorio e non concentrarli in poche e pochissime zone già vessate da problematiche ambientali di ogni tipo. Quindi dicevo, dilungandomi un pochino, quello che contestiamo noi di questo regolamento Tari ancora una volta perché io ricordo fin dal primo bilancio 2013 presentammo degli ordini del giorno e degli emendamenti che abbiamo riproposto anche quest'anno che andavano nella direzione del compostaggio domestico e collettivo, della tariffa puntuale e quant'altro noi contestiamo l'impianto, è assurdo far pagare una tariffa rifiuti che si calcola sui metri quadri dell'abitazione e sul nucleo di residenti e non si calcola su quanti rifiuti effettivamente vengono prodotti. Ripeto, come dovrebbe essere in qualsiasi contesto, se adesso vado al bar del Campidoglio pago quello che consumo, non quello che dovrei consumare in quanto consigliere comunale standard, diciamo così. E quindi per noi viene meno l'impianto di questo regolamento. E ripeto, sarebbe fondamentale la tariffa puntuale non solo per incentivare i singoli cittadini ad avere dei comportamenti virtuosi perché ovviamente non tutti possono avere le stesse sensibilità e cominciare già da domani magari ad acquistare dei prodotti alla spina ma sarebbe molto molto importante anche per le piccole e medie imprese che anche esse pagano delle tariffe rifiuti esorbitanti a fronte anche lì di servizi dubbi. Pensiamo ad esempio a un ristorante, a un bar, facendogli pagare anche a lui la tariffa puntuale in base ai rifiuti effettivamente prodotti magari si potrebbero innescare dei comportamenti virtuosi, quel ristorante piuttosto che quel bar magari servirebbe solamente acqua del rubinetto e non acqua in bottiglia di plastica e quant'altro. E così da un lato risparmierebbero i cittadini e le imprese, dall'altro risparmierebbe anche l'amministrazione perché avrebbe meno materia da trattare. Ovviamente, aspetto più importante di tutti, ci guadagnerebbe anche l'ambiente cosa non secondaria, anzi tutt'altro. Quindi in questo meccanismo tutti ci guadagnerebbero non si capisce a questo punto perché non venga attuato, perché appunto quando si prospettano dei progetti, delle possibilità come questi non si capisce perché non vengano recepiti. Il Movimento 5 Stelle ad esempio lo ha fatto a Parma, che certo non ha le dimensioni di Roma, ma ha le dimensioni di un municipio di Roma. Quindi perché non si è già partito con uno o due municipi pilota per sperimentare la tariffa puntuale? Nella città di Parma è stato fatto con buona pace di quei consiglieri che ogni volta ricordano l'inceneritore di Parma. Perché non si fa anche a Roma? Cara Presidente, cara Giunta, cari colleghi, sinceramente non si capisce. Io dicevo che il tema rifiuti è un tema molto importante, perché i cittadini vanno a pagare una tariffa rifiuti e poi a finanziare un piano finanziario AMA, che ancora dal nostro punto di vista è offuscato da una non chiara e trasparente gestione delle risorse o quantomeno sul non accertamento delle responsabilità di come sono stati utilizzati i fondi in passato. Ogni tanto mi fermo a parlare con degli operatori AMA perché, cari colleghi, l'aspetto forse più bello del nostro ruolo istituzionale è quello di essere portavoce dei cittadini che devono raccogliere le istanze dei cittadini e riportarle all'interno dell'amministrazione, anche se poi magari in occasioni come questa mentre i problemi vengono illustrati, magari si è tutti un po' presi da tutt'altro. Chi chiacchiera, chi salta, chi balla. Ma io ripeto, sono contento perché le immagini dell'Assemblea Capitolina mi riportano a quando avevo i capelli un po' più lunghi di oggi e da bravo studente del liceo si facevano i collettivi e le assemblee in classe ed erano molto più ordinate dell'Assemblea Capitolina, quindi non c'è problema, è sicuramente un aspetto importante. Quindi dicevo, battute a parte, cari colleghi, la tariffazione puntuale è un aspetto fondamentale per il Movimento 5 Stelle. In tutto questo, dicevo, Presidente, però non è cattiveria, se possiamo, io non dico che i colleghi mi devono ascoltare perché sarebbe eccessivo, però neanche proprio capisco che siamo in primavera e c'è voglia di picnic all'aperto e di due chiacchiere, però magari un minimo di attenzione, proprio un minimo. Vi ringrazio. Dicevo, cara Presidente, Ama in questi anni ha gettato via molti soldi. Io dicevo appunto spesso mi fermo a parlare con degli operatori Ama che incontro perché il bello del nostro ruolo è quello di confrontarci costantemente con i cittadini, io lo faccio per i temi che seguo, l'ambiente, appunto, piuttosto che la mobilità, gli autistiata, i tassisti, piuttosto che il commercio, le piccole imprese, le botteghe artigiane e poi il bello è sempre cercare di collegare materie e argomenti apparentemente diversi. Dicevo Ama ha gettato un sacco di soldi in quest'anno, alcuni operatori mi raccontavano di alcune macchine per la pulizia, si chiamavano green machine che giacciono inutilizzate da anni. Oppure mi raccontavano di alcuni carrellini che erano stati acquistati da Ama di fatto non utilizzabili perché avevano delle forme che non ne permettevano la corretta utilizzazione. O ancora mi piace seguire in rete alcune immagini che postano alcuni lavoratori di Ama di materiali acquistati dall'azienda sicuramente scadenti o ancora altri lavoratori Ama mi hanno segnalato come la nuova macrostruttura sembrerebbe disegnata da quelle stesse forze che comandavano, è il caso di dirlo, le aziende municipalizzate negli anni precedenti. E mi riferisco alle varie parentopoli, mafia capitale e quant'altro. Molti lavoratori mi hanno detto, caro Enrico, a prescindere dai proclami del sindaco Marino e dal suo bel programma presentato qui in aula, che è rimasto lettera morta, all'interno delle municipalizzate, e mi riferisco ovviamente anche ad Atac, comandano ancora gli stessi soggetti e le stesse forze che lo fanno da anni. Quindi dicevo, cara Presidente, c'è tanto lavoro da fare e quindi poi spiace quando si vede quest'aula che lavora un po' a ritmi blandi, sedute del Consiglio che iniziano tardi, numeri legali che cadono, che ricrescono, che rinascono, solite lotte tra più correnti, quindi io non do la presenza così poi ti crea uno svantaggio, ripicche e contro ripicche dove però ci perde solamente la cittadinanza. Quindi dicevo, ho fatto questo discorso di come è gestita l'azienda Ama per dire un concetto fondamentale. Noi andiamo a chiedere ai cittadini romani una tariffa mostruosa a fronte di servizi ad oggi carenti e a fronte di una gestione di queste risorse a tutt'oggi molto opaca e soprattutto il sindaco che ha riportato una diminuzione della tariffa per quest'anno, io l'altro giorno in commissione quando si parlava del piano finanziario di Ama che voi vi siete dimenticati di portare in aula ma che non se l'era dimenticato l'ultimo consigliere capitolino di opposizione e il più giovane che molto spesso viene un po' bistrattato come se fosse un po' meno consigliere comunale degli altri perché vi devo dire non sono mancati episodi anche in commissione dove dei colleghi mi trattavano un po' come se fossi l'ultimo scolaretto piombato qui per sbaglio e sono fatti molto molto gravi perché soprattutto l'ultimo scolaretto capitato qui per sbaglio e che si appresta a discutere il solo, solamente il terzo bilancio della sua sicuramente breve carriera politica si era ricordato di questa enorme dimenticanza come da verbale della commissione ambiente se non sbaglio del primo giovedì di marzo quando analizzammo gli emendamenti proposti dal presidente De Luca che sicuramente ricorderà la mia domanda è il mio quesito posto in commissione, dicevo appunto in questo piano finanziario che è spuntato un po' in corsa si legge che il fabbisogno, i costi di Amazon sono saliti da 773 milioni e spicci a 776, quindi il quesito che pongo, la domanda che pongo è come fa il sindaco Marino a ridurre la tariffa rifiuti? Non è che poi questi soldi verranno presi da qualche altra parte e questa riduzione minima di pochissimi euro serve solo per fare un po' di solita propaganda come magari è avvenuto a livello nazionale dal buon premier Renzi che poco prima delle elezioni europee regalò 80 euro salvo poi riprenderseli anche con gli interessi, ovviamente sono domande che pongo e sulle quali sarò ben felice di avere una risposta e sarò ben felice magari di essere smentito, ci mancherebbe il nostro ruolo di opposizione costruttiva ma soprattutto propositiva è proprio quello di incalzare è il caso di dirlo in questi giorni, la giunta per avere delle risposte soddisfacenti che i cittadini devono pretendere. Quindi dicevo Presidente in questo piano finanziario dimenticato di Ama che è intimamente connesso al regolamento Tari che andremo tra poco a discutere, a demandare e a votare, in questo piano finanziario che è arrivato in corsa, lo ricordo ancora una volta perché è un aspetto un po' curioso, perché io ricordo il 31 dicembre 2014 e questo è un concetto che ho riportato in commissione anche l'altro ieri, io ricordo il 31 dicembre 2014 che il sindaco Marino con la solita annuncite disse ai 420 che finalmente il bilancio di Roma Capitale era pronto al 31 dicembre, poi però vediamo che questo bilancio non era pronto perché se il piano finanziario di Ama ci è arrivato neanche una settimana fa o il sindaco Marino il 31 dicembre aveva detto una cosa parzialmente vera oppure effettivamente questo piano finanziario di Ama qualcuno se l'era dimenticato e magari è stato scritto in fretta in furia, anche perché facendo un confronto tra il piano finanziario 2014 e 2015 non è che ci siano delle grandissime differenze, salta all'occhio ad esempio, cari cittadini che andremo a pagare la tariffa rifiuti più alta d'Italia, salta all'occhio una riduzione degli investimenti che dal 2014 al 2015 sono passati da 46, anzi se non erro 47 milioni di euro a 40, meno 7 milioni su 47 è una diminuzione quasi del 20% che non è poco. Allora anche qui se si diminuiscono gli investimenti in un'azienda strategica come quella che deve gestire i rifiuti qualche punto interrogativo ce lo dovremmo porre, magari ce lo potremmo proporre anche insieme al nuovo consulente in materia ambientale nominato dal Sindaco Marino io ho chiesto al Presidente della Commissione Ambiente De Luca di audirlo in commissione perché sicuramente ci potrà apportare dei contributi significativi. Quindi dicevo Presidente massima attenzione perché noi andiamo a chiedere ai cittadini romani dei soldi che poi non si sa bene come vengano spesi o meglio lo sappiamo bene purtroppo perché attualmente AMA spende tantissimi soldi per portare i rifiuti differenziati, indifferenziati l'organico fuori regione con dei costi esorbitanti sia dal punto di vista meramente monetario ma anche e soprattutto con dei costi indiretti per quanto concerne gli aspetti ambientali perché dei tir che fanno su e giù per l'Italia di certo non fanno bene ai nostri polmoni. Allora, soprattutto oggi che si rincorre questo tema dell'ecodistretto e magari in fretta e in furia si vuole riparare ai danni degli anni passati dove AMA è assurdo un'azienda che gestisce rifiuti non aveva e non ha. La mia domanda è se c'è un consiglio parallelo presso l'assessore al bilancio io mi faccio da parte oppure posso intervenire lì nel capannello di colleghi? Colleghi, colleghi, come sta intervenendo il consigliere Stefano avrebbe piacere che l'assessore insomma l'ascoltasse. Grazie. Grazie Presidente per la sua disponibilità e attenzione e sensibilità ma io chiedo solamente il silenzio non chiedo di essere ascoltato perché ricordo una delle mie prime lezioni all'università di diritto e il professore disse come succedeva nelle antiche università del medioevo se qualcuno voleva ascoltare lo faceva altrimenti voleva dire che colui che stava parlando non era all'altezza del dibattito e della lezione e quindi non poteva proseguire quindi io se i colleghi mi vogliono ascoltare è perché sto dicendo delle cose sensate oppure se non mi vogliono ascoltare vuol dire che non sto dicendo cose sensate però invece un minimo di silenzio e rispettoso anche nei confronti di chi si sta impegnando per portare io immagino e voglio sperare un contributo significativo al dibattito perché se altrimenti dobbiamo fare il solito gioco della opposizione che fa un'opposizione tanto per farla e poi si vota in automatico scusi colleghi io vi invito a prendere posto o ad uscire dall'aula non è necessario rimanere in aula così almeno chi interviene lo può fare prego consigliere Stefano grazie si dicevo recuperando poi un pochino il filo cosa comunque non facile abbiamo portato e stiamo apportando come gruppo capitolino del Movimento 5 Stelle dei contributi voglio sperare significativi alla discussione significativi per tutta una serie di ragioni anche se vedendo la sicurezza dei consigli di maggioranza voglio pensare che sicuramente questa consigliatura arriverà a gonfie vele al 2018 e il prefetto non interverrà fra tre mesi quando scadrà la commissione su mafia capitale quindi c'è un po' un'atmosfera diciamo primaverile dove va tutto bene magari non sono così d'accordo i cittadini della nostra amata città dicevo appunto quando si parla di tariffa rifiuti e quando si parla di un monte di quasi 800 milioni di euro bisogna fare particolare attenzione perché si stanno gestendo tanti tantissimi soldi dei cittadini che poi a proposito di tariffa rifiuti e a proposito di diritto oggi sto ripercorrendo un po' il mio percorso di studi se non sbaglio poi i miei colleghi avvocati forse mi correggeranno c'è anche un aspetto molto importante perché i cittadini sulla tariffa rifiuti pagano l'IVA che è un aspetto di dubbia legittimità perché appunto il tributo fu trasformato in tariffa anche per far pagare i cittadini l'IVA ma poi l'IVA sappiamo che è un meccanismo per cui deve essere scaricata e se io pago la tariffa rifiuti e pago l'IVA sulla tariffa rifiuti poi non posso scaricarla e da qui mi ricordo un po' di lezioni di diritto tributario in cui si dibatteva se fosse legittimo pagare l'IVA sulla tariffa rifiuti o meno anche questi altri aspetti che voglio aggiungere al dibattito un po' a sottolineare come alla fine i cittadini siano sempre contemperati solamente quando si tratti di pagare delle tasse o delle tariffe dopodiché vengono utilizzati o anche ricordati quando si tratta di votare e poi vengono lasciati nel dimenticatoio e devo dire che gli ultimi fatti di cronaca degli ultimi giorni delineano un sistema del genere perché vediamo come la cosa pubblica sia gestita sempre e comunque per fini particolari o individuali di qualcuno e mai nell'interesse del bene comune e questo è un aspetto molto grave è un approccio che va totalmente ribaltato dicevo appunto Presidente in questo regolamento Tari per non perderci solamente in chiacchiere abbiamo presentato anche degli emendamenti molto importanti che andremo a discutere dopo uno degli emendamenti più importanti riguarda dei soldi che Ama in questi anni ha percepito indebitamente Ama in questi anni ha chiesto ai cittadini dei soldi che non gli aspettavano stiamo parlando di tante tantissime categorie di artigiani piccole imprese e botteghe che pagano la tariffa rifiuti due volte prima la pagano a Ama in base a questo meccanismo diabolico di cui parlavo prima per cui la tariffa rifiuti si paga in base ai metri quadri in base al nucleo abitativo in base alla categoria ovviamente di appartenenza poi però siccome queste imprese producono rifiuti speciali devono pagare delle ditte per smaltire questi rifiuti speciali rifiuti speciali che ovviamente non vengono raccolti da Ama ma vengono raccolti da delle apposite ditte che ovviamente vogliono essere pagate colleghi sto dicendo una cosa molto importante poi ripeto se non volete rispettare le tante piccole e medie imprese che tra l'altro si trovano in questo periodo in enorme difficoltà poi vi assumete le responsabilità di questa cosa dicevo queste piccole imprese pagano la tariffa rifiuti due volte una volta ad Ama e una volta per i rifiuti speciali che producono ovviamente producendo rifiuti speciali Ama loro non offre un servizio perché se io produco un rifiuto speciale vernici piuttosto che plexigas piuttosto che qualcos'altro ovviamente non li conferisco ad Ama quindi Ama io la pago senza avere nulla in cambio ebbene c'è addirittura un decreto legge un decreto legislativo non ricordo dell'era Monti che stabilisce appunto che queste imprese chi produce prevalentemente rifiuti speciali non può pagare la tariffa rifiuti ordinaria come è logico che sia parliamo di quasi 30 milioni di euro che entrano ogni anno ad Ama per servizi che non sono offerti noi oggi abbiamo presentato questi emendamenti per chiedere banalmente di recepire questo decreto legge non sto parlando colleghi di recepire un articolo del blog di Beppe Grillo ma un decreto legge che dovrebbe essere rispettato dando tra l'altro anche in questa fase ossigeno alle tante imprese che si trovano tra mille difficoltà tra mille difficoltà perché magari durante la giunta Veltroni una delle giunte che mi sento di dire ha fatto sicuramente ha preso delle decisioni sbagliate negli anni magari decise di aprire centri commerciali a pioggia dimenticando però il tessuto produttivo storico di questa città quindi almeno per una volta vi stiamo chiedendo di venire incontro alle esigenze delle piccole imprese e non sulla base così aleatoria ma sulla base di un decreto legge che vi chiediamo di applicare quindi attendiamo con ansia il voto di questi emendamenti per vedere anche l'attenzione dei colleghi perché colleghi voi che non mi state ascoltando adesso e poi magari voterete questi emendamenti in automatico in base al pollicione dell'ottimo capogruppo pane caldo poi però se per sbaglio bocciate questi emendamenti perché non avete ascoltato il consigliere Stefano che li illustrava poi però in questo modo fate un danno alle imprese e poi non è che potete giustificarvi dicendo no ma pane caldo mi ha detto di votare contro perché c'è stato un collega che per mezz'ora ha spiegato i motivi che erano posti alla base di questi emendamenti quindi ripeto un aspetto molto importante degli emendamenti puntuali che abbiamo presentato su questo tema e sul quale vorremmo ci piacerebbe avere la massima convergenza di questa maggioranza per fare invece un passo indietro e tornare agli ordini del giorno che abbiamo presentato abbiamo presentato i nostri soliti ordini del giorno di default che presentiamo ormai da tre anni sul regolamento tari che sono gli ordini del giorno che riguardano una tariffazione puntuale e il compostaggio domestico e collettivo su questo argomento molto importante stiamo per depositare anche un regolamento regolamento che abbiamo da cui stiamo prendendo spunto è il regolamento della città di Ragusa governata se non erro da un sindaco del Movimento 5 Stelle quindi quando si parla del Movimento 5 Stelle come di una realtà astratta che non combina nulla in realtà nelle città che il Movimento 5 Stelle amministra e ci auguriamo che ben presto anche la città di Roma faccia parte di queste città nelle città dove il Movimento 5 Stelle amministra vengono presentate delle proposte di assoluto buonsenso che vanno incontro ai cittadini quindi appunto vi raccontavo di questo regolamento sul compostaggio domestico e collettivo che prevede che fino a 15 nuclei familiari di cittadini si possano mettere insieme individuare un'area del comune e pensiamo ad esempio a Roma e alle tante aree verdi abbandonate del comune di Roma di Roma capitale che poi magari molto spesso sono oggetto di degrado quindi guardate anche qui colleghi come si riesce ogni volta come si suol dire a prendere più piccioni con una sola fava parliamo di compostaggio domestico e collettivo tema ambientale di assoluta importanza dall'altra parte recuperiamo anche delle aree verdi dismesse quindi parliamo di urbanistica piuttosto che di manutenzione del verde in questo regolamento fino a 15 nuclei familiari se non erro si possono mettere insieme individuare un'area verde del comune costruire la loro compostiera magari prendendo anche delle opportune precauzioni per evitare che questa compostiera poi venga utilizzata per altri fini smaltire in questo modo il loro rifiuto organico che ricordiamoci arriva quasi al 30-35% del totale apportando dei benefici per l'ambiente apportando dei benefici per l'amministrazione e per ama che si vede ridotte le quantità di rifiuti da trattare e ridotti i camion che ogni giorno scorrazzano per l'Italia per smaltire questa frazione e dulcis in fundo ci guadagnano anche i cittadini perché una parte della tariffa rifiuti gli viene scontata ovviamente sappiamo bene che questo già è possibile per i cittadini che ne fanno richiesta tra l'altro in una finestra temporale molto ridotta di circa un mese quando i cittadini nel mese di ottobre se non erro possono fare richiesta ad ama se soddisfano dei requisiti come avere un giardino se non erro di 20 metri quadri per residente in questo caso ama porta una compostiera al bravo cittadino e il cittadino riceve uno sconto quello di cui stiamo parlando è dare un'opportunità anche a quei tantissimi cittadini pensiamo a Roma che non hanno la fortuna di avere un giardino e allora anche in questo caso si può dare la possibilità di compostare i rifiuti in maniera diciamo organici in maniera fai da te e ricevere uno sconto sulla tariffa cosa molto importante perché altrimenti i governi delle tasse rischiano di soffocare una volta per tutte le possibilità e le opportunità che i cittadini hanno quindi noi abbiamo presentato gli ordini del giorno per impegnare la giunta ad andare in questa direzione lo facciamo con costanza dal 2013 da quando venne discusso a dicembre 2013 il primo bilancio di questa amministrazione e lo facciamo ancora oggi un altro ordine del giorno molto importante è quello che riguarda appunto l'eco distretto di Rocca Cencia abbiamo chiesto una cosa molto importante a questa giunta e gli abbiamo chiesto un impegno formale tramite appunto un ordine del giorno abbiamo detto caro assessore coinvolgi veramente e in maniera reale e significativa i cittadini del quadrante est di Roma nella valutazione di questo codistretto e soprattutto nel realizzare un progetto che abbia senso che vada incontro alle esigenze della cittadinanza e soprattutto che abbia il minore impatto che abbia un impatto nullo sulla salute e sull'ambiente dei cittadini che vivono nei quartieri limitrofi perché colleghi e ancora una volta vediamo come gli argomenti sono collegati il quadrante est di Roma ha subito una densificazione senza sosta negli anni 2000 grazie al piano regalatore dell'allora sindaco Walter Veltroni quindi territori non stiamo parlando di case abusive sorte vicino all'impianto ma stiamo parlando di quartieri costruiti dai soliti speculatori o palazzinari come si usa tra virgolette a Roma che hanno costruito interi quartieri della nostra città ed ora questi cittadini che già si sono ritrovati dei quartieri dormitorio senza neanche una piazza io non sto parlando di fantascienza come potrebbe essere una metropolitana un treno regionale una pista ciclabile un parco perché sappiamo che a Roma è fantascienza quello che è normalità in qualsiasi città occidentale e in qualsiasi capitale anche dei paesi in via di sviluppo a Roma è fantascienza ma sto parlando anche degli aspetti più banali una piazza un luogo dove incontrarsi ma io lo dico sempre che se i cittadini avessero la possibilità di incontrarsi fuori di casa magari discutere magari ragionare magari commentare insieme i consigli i capitolini finalmente in diretta streaming avremo dei cittadini con una coscienza molto maggiore che probabilmente non rivoterebbero le amministrazioni di centrodestra e di centrosinistra che hanno portato questa città alla quasi distruzione e soprattutto a un debito di 20 miliardi di euro quindi tutto questo per dire Presidente che abbiamo presentato questo ordine il giorno in cui chiediamo che i cittadini vengono coinvolti realmente non a giochi fatti perché abbiamo visto che quando i cittadini si sono cominciati a mobilitare su questo discorso dell'ecodistretto Marino e Zingaretti si sono incontrati in fretta e furia per parlare di questo ecodistretto con questo ordine del giorno noi chiediamo alla Giunta di impegnarsi veramente a coinvolgere questi cittadini e a valutare dei progetti che abbiano il minore impatto possibile sul territorio e soprattutto dei progetti che non siano massivi che non siano concentrati in un unico punto ma che siano diffusi sul territorio non si può pensare di fare un mega ecodistretto a Rocca Cencia magari anche per andare incontro alle esigenze di quelle banche che ricordiamolo vantano dei crediti nei confronti di Ama di 3-400 milioni di euro e poi anche qui permettetemi una riflessione Ama ha un debito di un miliardo di euro che non si capisce come faccia ad averlo nel senso che abbia un debito di un miliardo di euro Atac tra molte virgolette tra molte virgolette lo ribadisco ci posso anche stare perché magari Atac effettua delle linee in periferia ad orari non di punta e quindi ovviamente quell'autobus per Atac va in perdita oppure posso prendere la bicicletta la moto l'automobile il taxi non prendere mai l'autobus e quindi Atac viaggia in perdita ma come si fa a fare un debito di un miliardo di euro con Ama perché i rifiuti li posso conferire solamente ad Ama non è che li posso conferire a qualcun altro Ama opera in regime di monopolio e soprattutto mentre non tutti prendono l'autobus tutti producono rifiuti e soprattutto i rifiuti se utilizzati bene sono una materia prima da rivendersi sul mercato quindi non si capisce come faccia Ama ad avere un miliardo di euro di debito meglio si capisce perché ovviamente negli ultimi 15 anni ci sono state delle gestioni quanto meno allegre lo ricordavo prima quando sono state acquistate delle macchine per la pulizia cosiddette green machine che poi di fatto non si sono mai utilizzate e si sono rese inutilizzabili esempi del genere ne potremmo fare a Iosa come giustamente mi suggerisce il collega Corsetti quindi dicevo che almeno ringrazio perché vuol dire che sta seguendo l'intervento del consigliere giustamente quindi dicevo presidente come si faccia a fare un miliardo di euro di debito con Ama e poi magari pensare di soddisfare questo debito nei confronti delle banche facendo un mega progetto industriale a Roccacencia sono domande molto importanti a cui vorremmo avere una risposta e ripeto poi non è che le faccio tanto per farle magari sarò ben felice di essere smentito ci mancherebbe siamo qui per questo per tendere sempre una mano a questa giunta quando si tratta di fare il bene della collettività e dei cittadini quindi diciamo ho fatto un po' questa panoramica degli atti che il gruppo capitolino del Movimento 5 Stelle ha presentato sul regolamento Tari e poi è bene ricordarlo ancora una volta che poi tutti gli atti prodotti dal Movimento 5 Stelle non sono atti fini a se stessi caduti dal cielo ma sono sempre il frutto di un confronto e di un dibattito e di un percorso costruttivo con i tanti cittadini attivisti simpatizzanti che ci offrono il loro supporto tecnico in maniera ovviamente assolutamente gratuita perché uno dei principi sui quali si basa il Movimento 5 Stelle è quello di mettere a disposizione le proprie conoscenze alla collettività altrimenti se uno si tiene il suo bel bagaglio culturale per sé non serve assolutamente a nulla soprattutto in una fase come questa così Presidente ho fatto un po' una panoramica sul regolamento Tari quindi indirettamente quella che dovrebbe essere secondo noi una gestione virtuosa dei rifiuti in una città come Roma un altro aspetto che ancora non avevo toccato è quello del riuso della riparazione oltre che del riutilizzo quindi io la mia bottiglietta invece di gettarla via la vado a riempire magari in un negozio di prodotti alla spina così da riutilizzarla e non farla e non farla finire nel vortice dei rifiuti un aspetto molto importante è la riparazione anche qui mi spiace ogni volta dover fare il confronto con le tante capitali europee in tante altre città la riparazione è anche un'ottima opportunità di lavoro e vediamo ancora una volta come il tema ambiente si lega al tema lavoro al tema commercio i centri di riuso e riparazione sono diffusissimi perché soprattutto in una fase di crisi economica come questa e soprattutto in una fase dove le maestranze il nostro paese ne è sicuramente l'esempio più importante dove le maestranze gli artigiani i saperi manuali si stanno perdendo allora perché non mettere insieme queste cose invece di gettare un'armadio una scrivania un divano una sedia che invece potrebbero essere riparati e quindi poi riutilizzati mi scusi consigliere Stefano se la disturbo però nell'aula giudice non possono stare solamente i consiglieri io la devo invitare ad uscire mi scusi prego consigliere Stefano si dicevo e poi mi avvio a concludere perché penso di aver fatto una panoramica abbastanza esaustiva infatti vedo i consiglieri della maggioranza un po' disperati un aspetto fondamentale è la riparazione e la preparazione per il riutilizzo poi sono temi che ci impone che ci impongono ci vengono imposte dalle direttive europee ormai da quasi dieci anni quindi dicevo il riutilizzo e la riparazione sono aspetti fondamentali in molte città europee in un momento di crisi come questo ci sono tanti cittadini che vanno a raccogliere dei divani degli armati delle scrivanie delle sedie che invece che magari sarebbero gettati via che diventerebbero rifiuti e diventerebbero anche dei rifiuti difficili da gestire o ancora peggio come avviene molto spesso nelle periferie vengono gettati nel primo posto dove capita e così nascono quelle tante tantissime discariche abusive sul territorio bene questi oggetti potrebbero essere riparati e riutilizzati creando lavoro magari togliendo da situazioni difficili da contesti difficili e ancora una volta mi riferisco alle periferie tante persone perché poi ricordiamocelo la criminalità che abbiamo toccato da vicino in quest'aula con la vicenda di mafia capitale stiamo ancora toccando la criminalità trova il suo humus nelle periferie dove le opportunità sono nulle o poche se invece noi diamo delle alternative delle opportunità forse qualcosa di buono può nascere e se noi all'opportunità uniamo il fatto di non produrre rifiuti o di ripararli e allora lì abbiamo fatto bingo quindi presidente un altro aspetto importante che in questa città ancora non si affronta è il tema del riutilizzo della riparazione tanti e diffusi centri di riuso e riparazione dove delle persone possono portare dei rifiuti ingombranti che magari possono essere riparati altre persone offrono la loro manualità o si offrono di imparare da altre persone la loro manualità per riparare questi oggetti che poi possono essere anche venduti e quindi generare ricchezza e lavoro in un momento come questo ditemi voi come non si fa ad applicare un'idea e dei progetti del genere e concludo illustrando appunto anche un altro ordine del giorno importante che abbiamo presentato che è quello qui signori noi parliamo di tariffa rifiuti ma mancano le basi della gestione dei rifiuti faccio l'esempio del mio municipio il sesto municipio ex ottavo un municipio di 220.000 persone che si estende da zone semicentrali ormai come Biale Palmino Togliatti alla periferia più estrema o anche a territori che sono più vicini a Tivoli che non a Roma e bene tutto questo municipio non ha neanche un'isola ecologica è normale quindi tra virgolette non voglio giustificare chi getta i rifiuti per strada ingombranti o speciali per strada ma neanche si può chiedere a un cittadino di farsi 30 chilometri per raggiungere l'isola ecologica più vicina che è quella appunto di Viale Palmino Togliatti nel settimo municipio di Via Teano nel quinto municipio allora anche qui a fare un'isola ecologica in sesto municipio ma quanto ci vuole non è che stiamo chiedendo di costruire la linea D della metropolitana ma stiamo chiedendo di fare un'isola ecologica però tutte richieste che cadono nel vuoto e quindi concludo veramente ricordando ancora una volta l'importante ordine del giorno che abbiamo presentato riguardo l'eco distretto di Roccacencia perché è bene ribadire sabato mattina ci sarà un'importante manifestazione a Roccacencia alla quale ovviamente parteciperemo insieme in cui appunto dicevo i cittadini di quel quadrante sono giustamente arrabbiati perché quotidianamente subiscono la discarica di rifiuti speciali di Castelverde scoperta durante i lavori per la Tav che a tutt'oggi non è stata bonificata dopo diversi anni i roghi tossici che si sviluppano nelle zone limitrofe al campo Rom di via di Salone anche questo altro aspetto che va affrontato al più presto perché abbiamo visto poi chi ci guadagna e ancora una volta mi riferisco a mafia capitale a chi ci guadagna intorno a questi campi Rom di certo non i cittadini dei quartieri limitrofi di certo non la maggior parte delle persone che vivono all'interno dei campi ma tutto quel contesto di cooperative e contro cooperative che gravitano intorno a queste realtà in quella zona dicevo c'è poi l'impianto attuale di trattamento meccanico-biologico di Rocca Cencia che sono decenni che rende la vita impossibile ai cittadini e Presidente voglio ricordarlo ancora una volta qui non si tratta di cittadini che si sono costruiti per sbaglio la casa sotto all'impianto TMB di Rocca Cencia ma parliamo di case realizzate o da costruttori o anche di vere e proprie case popolari quindi pagate dal comune quindi questi cittadini hanno il sacrosanto diritto sancito dalla nostra amata Costituzione l'articolo 32 del diritto alla salute hanno il diritto di godere di un ambiente di vita sano perché tenere le finestre chiuse d'estate non è mai piacevole e poi ancora ricordiamolo a proposito di danni ambientali è un tema un po' diverso e che tocca un po' tutte le zone di Roma quello delle antenne radiobase sulla quale sul quale alcuni colleghi di maggioranza hanno presentato un regolamento che speriamo venga discusso il prima possibile qui in aula quindi presidente mi avvio a concludere spero di non avervi annoiato ma di avere anzi posto all'attenzione di quest'aula e al dibattito dei temi assolutamente importanti e spero che queste mie parole non siano cadute nel vuoto anche perché comincia un po' a farmi male la gola e mi farebbe mi creerebbe un enorme dispiacere se le mie parole si fossero perse nel vento grazie 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 grazie